Ragazzuoli, ciao a tutti, buongiorno, e io sinceramente più sento per l'ennesima volta tirar fuori questi discorsi qui, più allo stesso tempo per me è quasi indispensabile ritirar nuovamente fuori questo stesso argomento, perché d'altronde comunque, no? Al fuoco si risponde con il fuoco, e non può essere nemmeno altrimenti, no? Anche perché a una certa io capisco veramente tutto quanto, ma anche basta, perché a sto punto, qualora si ritenesse davvero verosimile una situazione di questo genere, dal mio punto di vista si farebbe prima dire, oh, aspettatevi di tutto perché la società Juventus, i dirigenti della Juventus, sono degli incompetenti, dove attenzione, qualcuno per carità può essere anche completamente d'accordo con questa ricostruzione qui tendente all'incompetenza dilagante che pervade la dirigenza juventina. Ma c'è un limite anche a tutto, obiettivamente, no? Con tutto il bene del mondo, e ragazzuoli, come al solito, prima di addentrarci nello specifico vi invito a lasciare un mi piace di sostegno, cosa sempre doverosa, dai, molto semplicemente, e se ancora non l'avete fatto mi raccomando, iscrivetevi per sostenere il canale, che al di là di tutto è una cosa veramente molto importante e che a voi non costa nulla. Detto questo, io sinceramente, nonostante tutta l'immensa stima, e credetemi, non sono ironico, che ho nei confronti di Sky e di chi lavora in Sky partendo da Caressa fino ad arrivare i dimarzi o della situazione, continuo davvero a non capire questa narrazione che stanno portando avanti attorno alla figura dell'allenatore, perché molto semplicemente, no? Anche nella giornata di ieri sono state riportate due cose della stessa emittente, una all'opposto dell'altra, perché magari c'è una figura, che magari può essere vista, no? Nella figura di Fabio Caressa che continua a dire, beh, sapete che sembra ci sia sempre più distanza tra la Juventus e Tiago Motta, ed occhio, perché per quanto riguarda Tiago Motta ci sono anche delle sirene da Parigi, dove già qui dico alt, perché per carità, dopo ogni giornalista ha le sue fonti, ogni giornalista magari parla anche con persone differenti e che quindi ci sta che ognuno possa avere delle notizie differenti da poi dare al pubblico, e io posso anche continuare a credere assolutamente che Tiago Motta possa non andare alla Juventus, che possa rinnovare con il Bologna, che possa andare altrove, però già qui se mi si butta in mezzo Parigi, vedi il Paris Saint Germain che intanto stasera ha una semifinale di ritorno, che se riesce a ribaltare l'1-0 di settimana scorsa in Germania, ha la possibilità di tornare in finale dopo quella che aveva perso contro il Bayern Monaco nell'anno della pandemia, se non sbaglio. Ha vinto il campionato e in finale di Coppa di Francia che si giocherà il 25 di maggio, quindi insomma per quanto Tiago Motta possa avere delle sirene da Parigi, Luis Enrique non mi sembra così tanto sulla graticola. Se magari la possibilità di giocarsi una finale di Champions dopo aver vinto già lo Scudetto, con la possibilità di vincere anche la Coppa Italia, la Coppa di Francia, tra meno di tre settimane può stare a significare esonero o alzo le mani e tanti saluti, perché poi spesso e volentieri questo discorso qui viene accompagnato e che quindi attenzione, che se salta Tiago Motta, e beh, Allegri nel momento in cui raggiunge la Champions League e magari metti che vince la finale di Coppa Italia potrebbe veramente rimanere. E prima di passare a questo tema qui nello specifico, che sinceramente è anche la cosa più importante dal mio punto di vista, bello vedere come sempre altri giornalisti di Sky poi parlano di quelle che saranno le panchine nella prossima stagione e quando si deve parlare di Juventus, no beh, è praticamente certo che Massimiliano Allegri lascerà alla fine della stagione e il candidato numero uno, è Tiago Motta. Dove anche qui, porca miseria, ok, riprendendo il discorso di prima ci mancherebbe altro che ogni giornalista magari non possa informarsi da persone differenti e che quindi ciò che poi viene riportato sia differente a sua volta, però porca miseria, anche proprio sotto la stessa emittente, se nel giro di un quarto d'ora uno smentisce l'altro ci può stare che poi sia a una certa l'emittente stessa a perdere di credibilità. E qui mi ricollego soprattutto al discorso del Massimiliano Allegri, se vince la Coppa Italia, state attenti che magari è la volta buona che, la volta buona sarebbe sinceramente la terza consecutiva, ma che lo riconfermano. Ma qui veramente, al di là di tutto, cioè ci premo nel richiederlo per l'ennesima volta. Credete veramente che la società Juventus sia una società così tanto incompetente che dipendi il futuro della prossima stagione, del medio-lungo periodo e quant'altro, in base ad una singola partita che è la finale di Coppa Italia. Perché attenzione, non sta a significare matematicamente, no? Massimiliano Allegri andrà via, alt. Può significare anche che Massimiliano Allegri rimarrà, non so con che presupposti, anche nella prossima stagione. Però veramente pensate che in questo momento qui, già adesso, senza aspettare quello che sarà l'esito della finale di Coppa Italia, la Juventus ancora deve decidere, la Juventus ancora deve riflettere, la Juventus ancora deve pensare. Siamo veramente giunti a questo livello di improvvisazione totale qui? Cioè, quantomeno, io non lo voglio sperare, non voglio neanche vagamente immaginarmi uno scenario di questo genere, detto proprio in tutta onestà. Perché non mi può, neanche per sbaglio, passare nella testa l'ipotesi che veramente, se Scamacca fa un tiro abbastanza insidioso e Perin ci arriva e metti che grazie a quel tiro vinci la Coppa Italia, a quella parata, in questa circostanza, ok, Massimiliano Allegri rimane. Se invece, fortuitamente, Perin non dovesse arrivare su quel pallone e quindi magari quel tiro di Scamacca è valevole per la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Atalanta, no, Allegri è esonerato. Siamo veramente giunti a questo livello qui? E lo ribadisco. Massimiliano Allegri può rimanere. Fino a prova contraria, lui ha il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2025 che verrà prolungato causa mondiale per club, quindi ci mancherebbe altro. Fino a prova contraria c'è un contratto in essere, assolutamente. Ma che debba venire deciso in base ad una singola partita? Questo sinceramente mi stona anche un pochettino, come se non ci siano già da diversi mesi delle riflessioni anche abbastanza importanti, proprio su questa cosa qui. Come se poi magari i risultati degli ultimi tre mesi non fossero sufficienti e tutta questa roba qui che bene o male ci siamo detti e ridetti tutti quanti nel corso sempre di questi tre mesi, tre mesi e mezzo. Ma veramente? La vera domanda è ma veramente si crede che ci sia proprio questa incompetenza dilagante? No, perché da quello che fanno trasparire almeno certi giornalisti sembra che il loro pensiero propenda verso questo punto di vista qui che magari non te lo dicono direttamente ma dal mio punto di vista se uno mi dice occhio che se metti vince la Coppa Italia occhio che potrebbe veramente rimanere decisione che verrebbe presa al 16 di maggio sinceramente mi stona anche perché poi ci hanno sempre insegnato che in realtà la stagione successiva si inizia a preparare a partire da febbraio, da marzo della stagione precedente per arrivare quanto più pronti possibile poi quando si potranno formalizzare i vari colpi, i vari acquisti e quant'altro dove in tutto questo eppure è giusto aggiungere dato che ormai ci siamo abbiamo fatto 30 facciamo pure 31 che cosa magari mi sta a significare che no se salta Tiago Motta perché ci sono le sirene parigine rimane allegri o c'è il piano A o c'è il piano 0 o c'è il piano A non c'è nessun piano non ho capito perché riprendendo sempre lo stesso discorso di prima partendo dal presupposto che presumibilmente la Juventus ha già deciso se non tanto il nome specifico se l'allenatore attuale rimarrà oppure no anche nella prossima stagione presumo che certo c'è un piano A che magari in questa circostanza risponde al nome di Tiago Motta assolutamente ma qualora dovesse saltare il piano A mica presumo ci sia anche un piano B un piano C e tutti i vari piani per poi arrivare all'ultimo che è beh oh se saltano veramente tutti quanti e ci abbiamo un allenatore sotto contratto fino al 30 giugno 2025 a questo punto rimaniamo veramente con lui se poi veramente gli obiettivi prefissati sono stati rispettati ritorno in Champions League e finale di Coppa Italia dopo addirittura aver battuto Salernitana Frosinone Lazio per carità però veramente dal racconto che c'è incompetenza dilagante no? e si parla dello stesso direttore sportivo dello stesso responsabile dell'area sport che poco più di 365 giorni fa ha riportato una squadra a vincere lo Scudetto a distanza di più di 30 anni cioè siamo a questo livello di incompetenza qui evidentemente che attenzione fino a prova contraria può accadere sempre la qualunque ci mancherebbe però così dal mio punto di vista mi sembra esagerato forse sto particolarmente sopravvalutando io l'attuale dirigenza della Juventus beh sinceramente direi di no anche perché parto dal presupposto che se si parla di tesserati che si trovano a quei massimi livelli del calcio italiano ed europeo perché anche se la Juventus non sta attraversando un grandissimo periodo negli ultimi anni e comunque pur sempre la Juventus e per arrivare alla Juventus e ricoprire certi ruoli alla Juventus non puoi essere il primo scappato di casa della situazione immagino che abbiano fatto le loro considerazioni e le loro valutazioni per tempo molto semplicemente voi ragazzuoli fatemi a questo punto sapere qui sotto la vostra con un commento vi rigiro nuovamente la domanda ma secondo voi c'è davvero questo livello di incompetenza perché da quello che traspare è questo che voi non vuoi vogliono dire perché no fatevelo sapere qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve